Determinante per chiarire la dinamica del tragico episodio di ieri sera in Viale della Pineta Pescara sarà l'autopsia che dovrà stabilire la causa scientifica della morte di Tiziano Paolucci da quanto appurato al momento non è emerso un colpo da cui possa essere direttamente scaturita la morte della 56enne. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe suonato il claxon quando la macchina guidata dal 20enne nel fare retromarcia lo stava per urtare. Il ragazzo sarebbe quindi sceso, ci sarebbe stata una discussione, poi si sarebbe arrivati alle mani. Al termine del litigio i due si sarebbero allontanati spontaneamente, smentita dagli inquirenti l'ipotesi di una fuga da parte del giovane. Paolucci sarebbe quindi risalito in auto per poi fermare la macchina dopo pochi metri, scendere dal mezzo e cadere a terra. Il 20enne quando è stato rintracciato dai carabinieri non sapeva nemmeno che il 56enne fosse morto. Il giovane ieri sera, assistito dal suo legale, è stato interrogato in caserma. Delle indagini coordinate dal PM Marina Tomolini si occupano i carabinieri della compagnia di Pescara. Intanto ai microfoni della Tg8 parla il primo soccorritore del povero Paolucci, un turista di Avellino, volontario della Misericordia. No, io stavo nel bar e pensavo che eravano delle ragazze che giocavano davanti alla pompa di benzina. Mi sono avvicinato, ho visto un signore a terra, una ragazza che gridava e questo signore qui verso la pompa di benzina che è a cacciata a terra. Io insieme a un altro signore abbiamo cercato di soccorre, quindi ho chiesto anche il defibrillatore alla palestra qui vicino al mio cugino, quindi ho cercato di animarlo insieme a questo signore. Qualcuno ha chiamato anche l'ambulanza. Sì, ha fatto la respirazione questo signore insieme a me, ha preso anche i numeri di targa e quindi ha fatto anche qualche foto e l'ha passato agli orghi di competenza. Ma il ragazzo è scappato? Questo non ti posso dire perché io stavo nel bar e quindi pensavo che erano delle ragazze che giocavano. Grazie. 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 Grazie.